Le spazzole del tergivetro anteriore si sostituiscono nel modo classico. A contatto inserito e motore spento, abbassare completamente la leva del tergivetro per liberare le spazzole dal cofano. Sollevare il braccio del tergivetro e premere il pulsante per rilasciare la spazzola. Per riagganciarla far scorrere la spazzola lungo il braccio fino al fermo, quindi accertarsi che sia correttamente bloccata e abbassare il braccio del tergivetro.